Nel nostro viaggio per Roma siamo a Genova Genova, ve la ricordate quando avevamo fatto il filmato? Sì che vi ricordate Genova, è questo palazzo, è il porto di Genova Seconda tappa del nostro cammino a Pisa Noi siamo dritti, la torre è storta Grazie 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 Ecco qui. Roma, Santa Maria, siamo passati dalla Porta Santa. Eccoci al Vaticano. Natura, Natura. Natura, 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 Natura. Natura, 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 Natura. Natura, 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 Natura. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E nel nostro viaggio siamo di ritorno a Genova. Genova di sera. Come dico io, notare il panorama. Genova, il porto, guardate che belle luci, eh? Vi ricordate Genova? Il nostro palazzo è Genova con le sue luci e poi notare naturalmente il faro, la lanterna, la lanterna di Genova. famosissima, famosissima lanterna di Genova. Eccoci. Siamo proprio di nuovo al nostro caro porto di Genova. Ecco, ricordate il panorama del porto con tutte le attrezzature. In questo momento non abbiamo navi, almeno in questa parte del porto, sono a largo sul mare. La luna, la luna. Genova, la luna. Ecco Genova, adesso torniamo a Milano, Varese, di ritorno da Roma. Bello, eh? Oggi è il 17 gennaio 2015, ormai è domenica. Oggi è il 19. Eccoci, a lei è traduzione, giornata, liberale. E la luna. Grazie.